La Toscana ha scelto di celebrare il 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con una cerimonia al monumento in ricordo dei 29 giovani partigiani uccisi dai nazisti a figline di Prato il 6 settembre 1944, rigorosamente a porte chiuse per le restrizioni imposte nella lotta al Covid-19. Ai piedi del monumento è stata deposta una corona di alloro per ricordare tutti i caduti nelle oltre 280 stragi nazifasciste che tra il 1943 e il 1945 hanno ucciso 4500 civili in 83 comuni toscani. Il presidente della regione Enrico Rossi che in mattinata ha rivolto su Facebook un videomessaggio ai cittadini ha ricordato il valore del sacrificio di chi morì per ricostruire l'Italia, ancor più significativo oggi in tempi di crisi sanitaria. Questo sforzo io credo noi generazione più anziana dobbiamo metterlo a disposizione dei più giovani e saranno loro poi a consentirci di riprenderci da questa crisi, da questa chiamiamola corona crisi che ci affligge, che ci tiene in casa. Noi fortunatamente siamo dentro le nostre case, abbiamo il cibo, siamo riscaldati, abbiamo le telecomunicazioni per parlare con i nostri affetti e non ricostruiremo sulle macerie ma ricostruiamo comunque una città già definita. Però questi ragazzi possono essere ancora, ancora e sempre vorrei dire un punto di riferimento. La loro passione, la loro tenacia, la loro voglia di ripartire in un contesto come questo manda un messaggio probabilmente ancora più potente di quello che non manda tutti gli anni. Sono state centinaia le iniziative per celebrare l'anniversario della liberazione in tutta la Toscana, in gran parte sul web.